Leonardo Silva Revisore Negli anni 90 c'era un detto che caratterizzava internet, cioè che su internet nessuno sa se sei un cane. L'obiettivo di quel detto era far capire appunto come fosse facile essere anonimi su internet. Questa cosa negli anni è cambiata molto. Secondo me l'anno che più caratterizza questo cambiamento è stato il 2008. La domanda che mi pongo oggi con voi e che mi pongo da tempo è nel futuro, nel 2020 o anche più in là, saremmo sempre più anonimi o avremmo sempre meno anonimato su internet? E quale delle due opzioni possiamo considerare essere la migliore? Ora, la prima questione è cosa è successo nel 2008. Nel 2008 è successo una cosa molto interessante, cioè che i social network sono diventati un fenomeno sociale sempre più grande. E i social network in maniera indiretta, questo non era il loro obiettivo, ma in maniera indiretta hanno reso sempre più difficile essere anonimi su internet. Se giocate a poker, nel mondo del poker c'è un detto che fa capire perché questo fenomeno della mancanza di privacy sia in parte dovuto ai social network. Cioè, il detto è che se a un tavolo di poker entro i primi cinque minuti non capite chi è il pollo, il pollo siete voi. In questo caso, il prodotto di questi social network siamo tutti noi. Nel senso che i social network quasi tutti guadagnano attraverso un'industria che è l'industria dell'advertising. Il nesso logico fra le due industrie che sembrano molto poco connesse è il fatto che l'obiettivo dell'industria dell'advertising è vendere a tutti noi dei prodotti. E i social network, così come molte altre aziende tecnologiche, hanno un quantitativo di dati su di noi quasi allucinante. L'idea è che se riusciamo a usare questi dati per capire meglio cosa interessa al singolo consumatore, allora avremo una più alta probabilità di convincere quel consumatore a spendere dei soldi. Il mercato dell'advertising sono circa 529 miliardi di dollari l'anno, che è una cifra incredibile. Stiamo parlando del PIL di un paese come il Belgio. A questo fenomeno, che è un fenomeno puramente economico, si aggiunge un altro problema. L'altro problema è un problema più psicologico. Cioè che negli anni sono state fatte diverse ricerche in cui si è provato che un utente, una persona, fra scegliere privacy o sicurezza e scegliere il comfort o la comodità, quasi sempre sceglierà il comfort o la comodità, se la percezione del rischio è una percezione remota. cioè se non consideriamo il rischio come una cosa molto probabile, allora molto probabilmente preferiremo il comfort alla sicurezza o alla privacy. La realtà dei fatti, però, è che se io ora vi chiedessi di spogliarvi, quanti di voi sarebbero disposti a farlo? Credo nessuno. Il motivo per questa cosa è che chiaramente voi percepite, anch'io percepirei, questa situazione come una situazione pericolosa. Nel senso che l'imbarazzo, il pudore mi farebbero stare abbastanza male se decessi di spogliarmi. Il punto è che su internet noi ci spogliamo quotidianamente e siamo protetti, tra virgolette, abbiamo questo senso di falsa sicurezza che ci è dato dal fatto che questi social network e buona parte dei siti che noi visitiamo sono difficili da capire per il singolo utente e allo stesso tempo, di nuovo, ci danno questo finto senso della privacy. Borat è un modo simpatico di spiegare il problema. La realtà è che sempre più spesso negli anni vediamo, soprattutto adolescenti, suicidarsi per quello che i loro compagni di scuola postano su Facebook piuttosto che su altri social network. C'è un ulteriore problema, che non solo siamo nudi e la gente ci guarda quando siamo su internet, ma tutto quello che noi facciamo viene registrato costantemente. Di nuovo, cercando di fare un paragone con la vita reale, è come se viveste a Londra. Per quanti di voi siamo andati a Londra, c'è pieno di telecamere. Quindi ogni giorno noi ci svegliamo nella nostra vita online, compiamo tutti i nostri gesti che possono essere andare su Facebook piuttosto che guardare il nostro conto in banca, eccetera, eccetera. Siamo completamente nudi e siamo registrati. Ora, il punto è che quando parlo di registrazione, intendo dire circa 600 terabyte di dati al giorno. Se volessimo trasformare questo in ore video, parleremmo di 150.000 film da due ore ciascuno. Se uno di noi volesse analizzare o vedere questi dati che vengono raccolte in un giorno solo da un'azienda sola, cioè da Facebook, ci servirebbero 35 anni. Che è, almeno pensandoci, è una cosa incredibile, perché di nuovo ogni giorno è come se Facebook raccogliesse 35 anni di ore video su tutti noi. La domanda chiaramente è perché mi dovrebbe interessare? Come singolo cittadino, come singolo utente, perché mi interessa? Perché alla fine questo sistema funziona in maniera perfetta per tutti noi, nel senso che è il tipico fenomeno del freeriding, nel senso che noi usufruiamo di servizi in maniera gratuita e questi servizi migliorano la nostra vita. Quindi la domanda che ci poniamo è, questo è un problema o sarà un problema in futuro? La mia risposta è sì. Uno dei problemi che abbiamo con questa raccolta frenetica di dati è il fatto che, come dicevo prima, nessun umano è in grado di analizzare questi quantitativi di dati che vengono accolti quotidianamente. Per cui facciamo affidamento alle macchine. Nello specifico facciamo affidamento a degli algoritmi che si chiamano algoritmi di machine learning. Ora, mi perdoneranno i cultori della materia, ma il machine learning è fondamentalmente la statistica applicata a grandi quantitativi di dati attraverso dei computer. Il problema della statistica è che la statistica, per sua natura, ha un errore intrinseco. E quindi uno dei problemi che ci poniamo spesso, che chi si occupa della materia si pone, è come fare a minimizzare questi errori. Perché altrimenti, quando uso l'algoritmo di machine learning, è probabile che io faccia delle deluzioni sbagliate su una determinata persona. Ora, gli algoritmi di machine learning tendenzialmente vengono usati per due cose. La prima cosa è classificare delle entità. Cioè, dire questa persona è un uomo o una donna, questa persona è ricco o povero, eccetera, eccetera. L'altra cosa è imparare delle cose su un qualcuno, in maniera tale, di nuovo, se lo guardiamo dal punto di vista dell'advertising, per capire cosa può interessare a un determinato utente. C'è un problema con tutto ciò. Questo significa che noi fondamentalmente stiamo dando in outsourcing delle decisioni sempre più importanti sulla vita di tutti i giorni, a delle macchine. Ora, in generale, una cosa che gli algoritmi di machine learning non riescono a fare oggi, e probabilmente non riusciranno mai a fare, è che non hanno empatia. Quindi, se noi abbiamo questo stream di dati che va dal giorno in cui siamo nati ad oggi, e come tutti quanti abbiamo commesso degli errori in passato, ci sono delle cose che preferiremmo non menzionare. L'algoritmo di machine learning non considera niente di tutto ciò. L'algoritmo di machine learning ha dei dati, fa l'analisi sui dati, ci dà delle risposte. In più, la probabilità che uno, a caso di noi, capisca effettivamente cosa fa l'algoritmo, è praticamente pari allo zero. Anzi, è quasi preoccupante, perché se parlate con una persona qualunque che si occupa di reti neurali, vi dirà che determinate decisioni, che migliorano i risultati delle reti neurali, non hanno una spiegazione. Nel senso che vengono cambiati dei parametri, e perché quei parametri dovrebbero funzionare meglio di altri, è una domanda a cui nessuno ha una risposta. Ci ritroveremo in un futuro, purtroppo molto più vicino di quanto pensiamo, a avere a che fare con delle istituzioni che usano questi algoritmi per prendere delle decisioni importanti sulla vita di tutti i giorni. E, per il problema di qui sopra, non saremo in grado di computare queste decisioni. Ora, questo non credo succeda molto in Italia, ma succede tantissimo negli Stati Uniti. Nel senso che il machine learning, applicato a quello che di solito viene definito big data, viene utilizzato già oggi per capire quanto deve essere alto il premio assicurativo sulla vostra assicurazione sulla salute. viene utilizzato per capire quanto deve essere alto il tasso di interesse sul vostro mutuo e se darvi un mutuo. Viene utilizzato dai governi per corredare le attività di persone per capire se quelle persone sono state coinvolte in un qualche attentato, piuttosto che qualunque altro atto criminale. Ora, un autore molto famoso di fantascienza, William Gibson, ha scritto, dirigente su Twitter, che una delle domande che lui si pone spesso quando vede della nuova tecnologia è cosa farebbe la Corea del Nord se avesse accesso a questa tecnologia. Il punto è che noi implicitamente stiamo creando una tecnologia che non capiamo e che potenzialmente darebbe a un paese come la Corea del Nord la possibilità di creare l'equivalente di uno stato totalitario su internet. Ci ho detto, spesso purtroppo nel mio lavoro sono foriero di cattive notizie e l'obiettivo di questo talk è cercare di avere una visione costruttiva, perché di nuovo internet e lo sharing in generale ha migliorato in passato e migliora le nostre visite tuttora. E in termini molto pratici, senza internet io non avrei un lavoro. Per cui è importante che internet sopravviva e che lo sharing sopravviva. E inoltre è importante la possibilità di mantenere il concetto di freeriding, perché altrimenti quello che viene definito il terzo mondo non avrebbe accesso, non avrebbe la possibilità di pagare per le risorse su internet che noi tutti utilizziamo oggi. Ci sono quattro cose che secondo me possiamo fare come cittadini per migliorare la situazione. Alcune di queste richiedono un lavoro di concerto con le istituzioni e le aziende e altre invece sono delle cose che possiamo fare noi singolarmente. La prima cosa è imporre alle aziende di avere una sorta di data di scadenza sui dati che vengono raccolti. Cioè l'idea è, ok, tu puoi raccogliere tutti i dati che vuoi, ma dopo 30 giorni, 6 mesi, un anno, quei dati devono necessariamente essere cancellati. Questo permette a noi di avere il famoso diritto di essere dimenticati e rende più difficile per le aziende applicare degli algoritmi su dei dati storici che magari noi non volevamo condividere se avessimo saputo che quel tipo di algoritmo sarebbe stato utilizzato su quei dati. la seconda proposta è quella di avere delle etichette molto simili alle etichette che abbiamo sul cibo, cioè i valori nutrizionali del cibo. Queste etichette devono essere applicate ai siti web e alle applicazioni sia sui cellulari sia sui computer. Perché? Perché in realtà il metodo legale attraverso il quale le aziende si appropriano dei nostri dati e fanno quello che vogliono con i nostri dati sono questi contratti spesso chiamati EULA. E questi contratti non sono fatti per essere letti da esseri umani. sono fatti da avvocati e l'obiettivo è rendere quasi impossibile la lettura da parte di un essere umano. In più, questi contratti sono fatti in maniera tale che fondamentalmente nel momento in cui noi accediamo a un sito o scarichiamo un'applicazione, stiamo dando completo controllo dei nostri dati a una determinata azienda. Questa cosa sta cambiando lentamente su, ad esempio, sistemi operativi come iOS, quindi quello che avete sui vostri iPhone. Cioè, quando una determinata applicazione vuole accedere alla telecamera piuttosto che ai contatti, viene fuori un pop-up che vi chiede vuoi dare l'autorizzazione a questa applicazione per accedere ai dati. Ma non è abbastanza. Bisognerebbe anche rendere comprensibile all'essere umano cosa si fa con quei dati. La terza opzione è avere la possibilità di pagare per dei servizi. Cioè, ad esempio, se voi siete dei fruitori appassionati di Facebook, dovreste poter avere due opzioni. L'opzione gratuita, in cui Facebook ha il diritto di collezionare i dati. L'opzione a pagamento, in cui voi pagate o un abbonamento mensile oppure a consumo. Però Facebook, a quel punto, non deve essere in grado di collezionare i dati su di voi. Ora, questo è una cosa che sta già accadendo, nel senso che ci sono dei servizi sia di Google sia di altre aziende che si stanno muovendo più in questa direzione. Però ancora non è abbastanza. La quarta opzione è l'unica cosa che in realtà potete fare già da oggi quando andate a casa. Cioè, utilizzare dei tool che sono privacy friendly. Cioè, sono dei tool che rendono più difficile il tracciamento delle persone su internet. Sono tool che bloccano i siti che vi fanno vedere la pubblicità. Sono dei tool come Tor. Tor è più o meno un labirinto online in modo tale che, quando io vado su un sito, è impossibile per il proprietario del sito capire da dove viene la connessione. Quindi è impossibile per il proprietario del sito capire che sono io. Oppure potenzialmente qualcosa come Bitcoin, che rende più difficile collegare una transazione finanziaria con una persona fisica. Il problema dei tool di privacy è che spesso vengono utilizzati come uno spauracchio dai governi. Non solo dai governi totalitari, ma anche dai nostri governi. Anche dai governi come l'Inghilterra. Perché, siccome garantiscono più confidenzialità e più privacy, vengono anche utilizzati da terroristi e criminali per le loro attività. Il problema è che, ad oggi, questi sono gli unici tool che noi abbiamo a disposizione per proteggere noi stessi. Per cui è importante che restino legali per quanto più tempo possibile finché questo tipo di problema non verrà risolto. Ora, la domanda è cosa succederà in futuro. Io spero che nel 2020 avremo la possibilità sia di essere dei cani su internet sia paradossalmente di avere più identità su internet. Cioè quasi un mapping uno a uno fra la nostra identità virtuale per poter fare cose come votare online oppure aprire un conto in banca senza dover firmare nessun tipo di contratto. Il punto è che è fondamentale avere la possibilità di avere entrambe le cose, altrimenti ci ritroveremo in uno stato totalitario sul web. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.